Procede a pieno ritmo la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini toscani avviata dalla regione il 20 aprile come misura di prevenzione primaria per contrastare il contagio del covid-19. La consegna avviene presso 1.150 farmacie pubbliche e private e 230 punti vendita dei supermercati che hanno aderito e se ne occupano persone adeguatamente formate. Le mascherine possono essere ritirate da un componente della famiglia per tutti i membri in pacchetti da 5 mascherine alla volta per un massimo di 6 volte nell'arco di 30 giorni. Per il ritiro è necessaria la tessera sanitaria o il codice fiscale. Noi siamo qua dalle 9, ci stiamo fino alle 15, ne abbiamo già consegnate 200 e poi tutte le mattine ci sono altri ragazzi che fanno le consegne. La distribuzione funziona bene da ieri, sono state distribuite circa 4 scatole, quindi circa 4.000 mascherine. Noi siamo dipendenti del servizio sanitario regionale, ci è stata richiesta la disponibilità per fare questo servizio a tutti i cittadini e ci sono tanti dipendenti che hanno risposto a questa richiesta e a turni copriamo una parte dell'orario perché comunque noi continuiamo anche a lavorare. Dal 20 aprile i cittadini con più di 6 anni devono obbligatoriamente indossare le mascherine in tutti i luoghi pubblici e privati aperte al pubblico.